Vigilante, la società odierna è marcia e sappiamo tutti di che è colpa, di fere, ma abbiamo troppa paura per dirlo, di fere, poliziotti instancabili, avvocati difensori dei diritti umani, giornalisti investigativi, social media manager, una lobby con interessi ben chiari che non si farebbe scrupoli prima di calpestare la libertà di un uomo d'affari più o meno legittimo come te, è ora che qualcuno si occupi della legge personalmente e se vuoi dispensare giustizia da un mezzo armato e con propulsione a razzo, la vigilante è l'unica alternativa. Sembra il veicolo perfetto per fere, sembra scritto da fere questa descrizione e anche esteticamente sembra perfetto per te. Infatti questa non è la Batmobile, è la fere mobile. La fere mobile, adesso la compriamo e la proviamo. E ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki. E sono Stefano, che si chiama GTA V. Benvenuti in un nuovissimo episodio di GTA V. Oggi siamo qui prontissimi per provare la nuova vigilante appena uscita. Non solo Fere, la voglio pure mettere a confronto con la Rocket Voltic perché sono davvero curioso di vedere quale delle due si guida meglio, quale delle due è più bella da utilizzare. Oltre che esteticamente secondo me vince subito la vigilante. Io lo dico, la Rocket Voltic non mi dispiace ma la vigilante sta anni luce sopra. In ogni caso, partiamo così. Fere, sei già sopra? No, non sono io. Ciao Stef. Allora Stef, ti dico già che va troppo veloce quest'auto, non fa fermarla, quindi se faccio disastri non è colpa mia, è colpa dell'auto. Ti rendi conto che hai già fatto una cosa illegale e tu dovresti essere il vigilante della città? Hai interrotto una bellissima intro di Stef, cioè è una di quelle cose che non si fa. No, ma quello tutti mi stanno ringraziando, io sento anche gli applausi sottofondo perché nessuno... Allora, io adesso mi bevo al te e tu continui l'intro. Vai di cosa dobbiamo fare adesso? Metterla a confronto con la Rocket Voltic, l'hai già detto tu, non c'è bisogno di dire altro qui Stef. Errore, errore, io non dovevo dire quello. Prima di metterla a confronto con la Rocket Voltic, la voglio analizzare e voglio vedere com'è da guidare, da provare, eccetera, eccetera. Quindi smetti di fare la simpaticona, stai ferma e fammi vedere un po'. Chiamati la tua. Devo dire, è qua, è più avanti. Ecco qua, ecco qua, perfetto. Lo so che al buio non si vede molto perché è tutta nera. Devi giudicare la mia, giudica la tua, scusa. La mia è più bella. Devo dire che è un po' troppo lunga. Sei d'accordo come forma? Cioè, ci sta, ha senso, però è un po' strana. Vai in prima persona e guarda come è dentro, cioè, è spettacolare. E vabbè, che cosa ci servirà al radar per i nemici? Non fare domande, anche perché forse abbiamo qualche arma, non mi ricordo. Sì, io ho un mirino davanti. Ah sì, 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 abbiamo un mitra. Oh no, ho sparato davanti a una stazione di pulizia, faremele vado. Oh cavolo, com'è sparato? Ci vediamo dopo. Tasto destro, tasto destro. Abbiamo giusto una mitragliatrice. Sì, mitraglietto. Se Steph premè, oh! Oddio, Steph, oddio, Steph, corre troppo. Mamma mia, non fa fermarla, non fa a fermarla. A me sai cosa sembra? Sembra anche molto forte per sbalzare le altre auto. Cioè, mentre di solito ti aspetti un veicolo molto fragile, questo mi sembra che riesca a dare belle sberle. Bene, ma mi sa che si può modificare questo veicolo. Eh sì. Perché sono andato dal meccanico e mi ha detto, ehi, vai al centro operativo mobile per modificarlo. Io direi di provare, Steph. Se possiamo personalizzarla ancora di più, secondo me, diventa davvero una bomba. Anche perché forse si possono aggiungere anche altre armi. Esatto, è quello a cui sto pensando. Mica all'estetica, Steph, sto pensando alle armi. Magari puoi aggiungere qualcosa di molto interessante, quindi direi di provare. Oh! Cosa c'è, Steph? Si può modificare tutto. Eh, vedi, te l'avevo detto, lo sapevo. Anche perché la guidabilità non è il massimo, quindi è ovvio che questa la puoi potenziare e farla diventare una cosa incredibile. Ci sono i missili! Che cosa bella! Vabbè, modifico tutto e ci vediamo dopo. Ti piace il mio nuovo specchio, Fere? No, così è brutta. Lo so che è brutta. Non lo fare? Stai rovinando gioiellino, non lo fare, Steph, ti prego. Tranquilla che non lo faccio. Ok, grazie. È strana vederla di altri colori. Guarda, la Fere è brutta. No, io penso comunque di lasciarla sul nero. Mi sa anche io, perché è proprio bruttina degli altri colori, eh. Mi sa che ci tocca lasciarla nera. Oh mio Dio, dimmi che non è bellissima, Fere. Ci sta questo colore. Vero? Allora, ti dico che io l'ho lasciata nera, perché mi piace. Però non avevo valutato questo rosso molto, molto, molto scuro. È rosso metallizzato vino, Fere, per essere precisi. Sì, color vino, infatti se vedi è un rosso che però in certi punti va ad essere anche un po' nero, secondo me è davvero bellissima. Poi secondo me il neon blu ci stava troppo, troppo, troppo bene. Ho anche modificato il turbo e non so che cosa comporta. Quindi fai un attimo. Vai, prova. Oh mamma mia, sei partito malissimo. Beh dai, mi sembra più o meno. Ah ma è già di nuovo carico. Ok, allora sembra abbastanza forte. In ogni caso adesso sia mitra elettrici che missili. Guardate un pochettino. Adesso possiamo sparare anche i missili. Grottellina cambita a sua destra, boom, 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 boom. Lo devo fare, Fere. Lo devo fare. Vai. Sei diventato un elicottero. Aspetta. Riuso un trucco. No, per la faccio esplodere. No, per la faccio esplodere. Non farla esplodere, Fere. No, per la faccio esplodere. No, per la faccio. Hai fatto esplodere? Ce l'hai fatta? Sei vivo? Il tuo veicolo personale è stato distrutto. Puoi chiamare le assicurazioni Morse Mutual per cambiare. Complimenti, Stef. Complimenti. È il momento della verità, Fere. Sei pronta a gareggiare con me? Prontissima. Sei pronta a gareggiare col vigilante? Muoviti, dai. Un nome strano. C'hai messo una vita solo perché hai distrutto il veicolo, quindi muoviti. Almeno abbi la decenza di essere puntuale. Guarda, sta facendo alba da quanto ci hai messo. Ho speso 20.000 pure. Posizionati iniziamo. Ma ascoltami. Ma guarda. Ma sei il doppio. Esatto. Dobbiamo davvero fare un confronto. Oltretutto io ho perso anche il cofano di davanti cercando di entrare nell'aeroporto, quindi è ancora più triste. Guarda questo fumo, Fere. Guarda che meraviglia. Uno. Via. Vai. Vai. Ciao. Ma dai, hai già usato il turbo. Certo, lo devi spammare, Fere. No, io pensavo che dovessimo usare... Ma il mio è lentissimo, Stef. Ciao. Ciao. Che tristezza. Ma vado molto più veloce. Sì. Sì, sì. Ok, aspetta che devo frenare che non voglio rifinire in acqua. C'è da dire che ho usato il turbo leggermente in ritardo rispetto a te. Però mi sembra proprio... Eh, togliti però, scusate. Ti stavo frenando. Mi sembra che lo sprint sia stato molto più potente il tuo. Ok, proviamo senza turbo. Perché voglio vedere la velocità di base dei due veicoli. Ok, dai. Ok, aspetta. 3, 2, 1, via. Vai. Ok. 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 Ma è molto più veloce. Ma è molto più veloce, Fede. Ma neanche a paragone. Cioè, senza turbo è ancora peggio. Guarda, guarda. Ci sto... Per disperazione. Usa turbo. Continua usare turbo. Eh, non ce l'ho. Si sta ricaricando. È lento. È molto lento ricaricarsi, eh. Vabbè, è incredibile. Oh, è anche doppio. Cioè, con quella... È molto più debba. Con quella, comunque, quando arrivi a una curva, giri. Con questa macchina vai dritta così e ti attacchi a una curva. Allora, infatti c'è da dire che, secondo me, la manovrabilità è molto meglio la Rocket Voltic. Perché nelle curve, comunque, girando, sterzando è molto meglio. Cioè, la trovo molto più maneggevole. Però con quella puoi anche fare questo. Quindi diciamo che vince lo stesso, capito? Ho perso anche lo sportello adesso. Scusami, ma ci tenevo. Senza cofano, senza sportello e senza dignità. Dobbiamo fare un esperimento per i consolini, Fede. Io non mi diverto a fare questa cosa, ma va fatta. Puoi andare un attimo dietro il mio turbo? No, dai, che vuoi fare? Eh, dobbiamo vedere... Vedere che succede. No, no, no. No, no, ma scendi dall'auto, grazie. No, voglio stare con l'auto. No, con l'auto non succede nulla. Non succede nulla, guarda. Sono arrivata a inizio pista. Ma stiamo scherzando? Cioè, guarda dove sono arrivata. Scusami, usalo tu. Vai. Vado. Ti è successo qualcosa? Beh, mi hai spostato di mezzo metro. Vabbè, tu sei molto più pesante. Riattaccati. No, voglio riprovare... Riproviamo una volta col veicolo. No, 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 no. Allora, mettiti attaccata a me dietro. Vai. Prima uso il turbo io. Ti do la spinta e dopo che usi il turbo tu. Sei pronta? Sì. Questo è l'effetto catapulta vigilante. Pronta? Vai. Tre, due, uno. No, non fa. Ma non riesco neanche a rimanere stabile. Non fa, non fa, non fa. Però adesso lo uso, guarda, come sta andando. Io l'ho usato però. Adesso riuscite a mettermi dritto e l'ho usato. Pronta? Non penso di uscirne viva, vai. Aspetta che non sei mirata. Vado? Vai. Ok. Beh, dai, dai. Metta vita. Metta vita. Un bel volo è metta vita persa. Mi sembra equo. In ogni caso adesso finalmente c'è il sole, quindi guardate come risulta l'auto. Praticamente sembra sempre nera perché ha moltissimi riflessi, però poi quando noti che è pure rossa, secondo me è più figa di quella originale. Non lo so, fateci sapere con un sondaggio che sono super curioso. Devo provare una cosa a fare. Cosa? Allora, vediamo se ci riesco. Sgomo? No. No, no, no. È troppo difficile. Eh, vabbè, vuoi fare le acrobazie strane qui. Sì, 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 sì. Tre, due, uno. Adesso. No, non ha funzionato. Peccato. Speri, hai già capito? Sì, Steffo, ho capito, tranquillo. Questo è l'ultimo test per la vigilante. Sei tu alla guida, quindi mi raccomando, spamma tutto il tempo turbo. Tre, due, uno, via. Vado, 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 vado. Ok, parto molto più lento, ovviamente. Decollo. Steffo, ho quasi finito la pista, però nel frattempo che te decolli, eh. Tranquilla, son partito, son partito. Vai, 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 vai. Allora, mi sembro più veloce, però non faccio intempare aggiungerti. No, 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 a breve distanza stravinci tu. Fine, aiuto, che finisco in mare qua. Ferre. Beh, perché è normale. Eccomi. Ecco, ce l'ho fatto. Ma è normale, perché l'elicottero ci mette tanto a decollare. È normale. Sai cosa potremmo chiamare? Cosa? Lo Starling. Quella aeretino piccolo, piccolo, piccolo che ha pure il turbo. Ok, vai, prova. Oh mio Dio, sì, va provato, va provato. Questa è la sfida definitiva, sono troppo curioso. Secondo te chi vince, Ferre? Non lo so, questa secondo me è una sfida molto combattuta, Steph. Io devi andare a vedere. Io penso che il Starling sia troppo più veloce. Ok. Però mi raccomando, fam al turbo. Vediamo, vediamo. 3, 2, 1, via. Eh vabbè, eh vabbè, mi hai doppiato. Insomma, un po' stai tenendo, eh. Sto tenendo, ma mi hai doppiato. Un po' stai tenendo, fammi vedere quanto sei dietro. Ok, adesso per me sarà impossibile frenare. Fede, addio, Fede. Ok, quindi almeno alla fine della pista ci sono arrivata io. No, è molto più veloce. Come pensavo, è più veloce. Lo sprint, lo sprint, l'ho proprio visto, è stato molto, molto più veloce il tuo bel. Sì, ma perché... Che piccolo, è poi fatto apposta, capito? È una bestia questo coso, guarda. Bene che se ci riesci a dire tutto, lasciateci un bel like. E se la prima volta che vedete il nostro video, potete considerarli da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, e alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie per la visione!